Questa è la serie di celle che sto bilanciando a 3,65V, qui c'è il pezzo forte che è un EBC A20 e poi due alimentatori da banco che fanno quello che possono. Ora però dobbiamo provare il nuovo VMS, cioè questo qui, mentre l'altro, eccolo, è il modello superiore. Quindi provvediamo a staccare tutta l'alimentazione esterna. E a disassemblare il pacco e ci vediamo fra un po'. Le batterie sono state predisposte nella posizione corretta, celle scusate, seguendo un ordine tale per cui si possono unire in serie un polo negativo e un polo positivo successivo e invece viceversa. E quindi i poli della batteria saranno positivo questo, negativo questo, 0, più 52, 53V, 54V a seconda dello stato di carica. Attenzione a non mettere la mano in questo modo. Non chiedetemi come ho fatto a scoprirlo, in realtà lo sapevo già, mi sono sbagliato poggiandomi mentre facevo i lavori in una precedente iterazione e ho scoperto che bisogna starci molto attenti. Ora si inseriscono le rondelle, un terminale per volta e ci vediamo fra poco. Breve nota, qui ho già collegato il cavo del VMS, quello che va alla batteria, sarà al negativo della batteria, questo andrà al negativo dell'inverter praticamente. E ho già collegato anche il terminale negativo che poi andrà al VMS. Questo è lo spinotto che si lascia disco al disconnesso, si collegherà soltanto alla fine dopo che si è verificato che le connessioni sono tutte giuste. Questo è un piccolo accrocco che ho fatto, non avevo la barra sufficientemente lunga per collegare questi due terminali assieme, quindi ho preso una di queste barre, ho tagliato le estremità che chiudevano i fori, in modo tale da poter chiudere in questo modo il contatto. A mio avviso è comunque un contatto adeguato, visto che anche gli altri terminali non hanno un contatto più esteso di questo. Procediamo adesso a inserire le rondelline a molla per regolare la coppia di serramento dadi e ci vediamo tra poco. Ora inserisco appena i dadi giusto per far tenere in posizione le rondelline evitando che saltino. A tra poco continuiamo. Ho iniziato a inserire i terminali, qui si vede già la prima lama infilata sotto la rondella. Questi terminali che sto prendendo uno per uno da questo spinotto vanno inseriti in ordine. La prima, numero 1, va sul polo positivo della prima batteria. Ecco, non fate voi lo stesso errore che ho fatto io, però questa è una cosa provvisoria quindi potrò sistemarlo. Sul BMS, dopo che io ho fatto questo montaggio, si vedrà che la numero 1, almeno dall'applicazione, è in realtà la numero 16. La numero 2 sarà la numero 15 e così via, fino al numero 1 che ho segnato qui, che in realtà sul BMS sarà la numero 16. Voi fate in modo tale che la numero 1, se l'avete etichettate, sarà quella da cui parte il polo negativo. Pazienza, nel mio caso, ecco, fate finta che le ho messe nell'ordine giusto. Non mi va adesso di rifare tutto da capo, sto facendo questa prova soltanto per testare il BMS. Quindi questo è il primo cavetto positivo, il secondo cavetto positivo va qui, in questo modo. Ecco fatto. È possibile anche montarli non necessariamente sul polo ma sulla barra. Se questo spinotto fosse stato messo in un buco separato su questa barra qui avrebbe fatto lo stesso lavoro perché in realtà questo è in parallelo al polo positivo di questa cella e al polo negativo di quest'altra. Quindi questi possono essere anche inseriti direttamente sulle barre. Prendiamo il terzo cavo, lo facciamo scorrere, poi li controlliamo un'altra volta a opera completa e si inserisce qui sotto e proseguo così fino a completare tutta la serie. Siamo arrivati ad applicare gli ultimi terminali, quelli del secondo spinotto. Come vi avevo anticipato, questo è il polo positivo che ho provvisoriamente dotato di questo cavo volante. Su questo dovrò mettere due terminali. Uno è quello proprio dell'ultima cella, l'altro è quello positivo. Sull'ultimo spinotto sono il penultimo, questo, e l'ultimo, quest'altro. Questo in più è di mezzo per la diciassettesima cella che non viene utilizzata, quindi si lascia libero. Quindi si prendono questi due terminali e si posizionano qui, però prima devo mettere le relative rondelle. Quindi posizioniamo questa, il dado, quindi questi due dovranno essere applicati assieme qui sotto. Sarà un po' scomodo, perché non ho chiali, come dicevo, questa è una cosa provvisoria giusto per valutare la bontà del BMS. Ecco fatto. Ripeto, massima attenzione quando maneggiate queste cose, perché voi se poggiate una mano e basta vi prendete una scossa sulla mano. Se c'è qualcun altro che mette la mano destra da una parte, la mano sinistra dall'altra, lì potrebbe rimanerci stecchito. Quindi io sto facendo una cosa molto rischiosa, non dovrei farla, ma la sto facendo per il bene della scienza. Ecco, questi sono tutti quanti fissati, anche se in maniera non completamente solida, ma mi interessa soltanto appunto testare il BMS. La cosa che vi avevo detto all'inizio con il fissaggio dei terminali colorati era proprio quella, si vede già a colpo d'occhio se la successione è giusta e i colori sono alternati. Blu-rosso, 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 blu-rosso e blu-rosso finali. Questo primo passaggio non è sufficiente, la cosa successiva da controllare è il voltaggio ai capi di questi terminali. Quindi si posiziona il multimetro con la sonda negativa sulla terminale nero. Perdonate, ma l'operazione che non la mano soltanto è piuttosto difficoltosa. Quindi vediamo se ci riuscirò, perché non credo che sarà possibile fisicamente. Ok. Quindi qui c'è una sonda sul primo negativo e poi il primo positivo. e non a caso adesso il multimetro riporta 3.28 volt coerente. Ora, lasciando la sonda negativa sul primo terminale, si andrà a scorrere sugli altri. E qui dovete vedere, appunto, vedete 6, dopodiché 10 qualcosa. No, come mai? Ecco, questo è il terzo. 9,99, 10. E dovete controllare che uno dopo l'altro, se magari ci aiuta, che vedo un voltaggio incostante. Risolto il mistero del motivo per cui non riportare il voltaggio corretto, non avevo serrato neanche un minimo i dadi sopra i poli negativi, quindi non c'era una serie completa, c'era un contatto incerto, di conseguenza il voltaggio al quarto elemento della serie non veniva rilevato. Ora, proseguendo, piccola trobazia. Vado in successione sui poli. 16,50, 19, 23. Fondamentalmente dovete vedere che di volta in volta, passando da un contatto all'altro, il voltaggio aumenta di un valore coerente con il voltaggio della singola cella. E così sembra. Siamo arrivati alla fine del primo spinotto, andiamo sul secondo spinotto, mantenendo il polo negativo della sonda negativa del multimetro sul primo, continuiamo sul secondo con la sonda positiva. Tutto fuorché semplice. 49. Questo è l'ultimo, 52, che dovrebbe essere replicato anche dal ecco, dal polo positivo. Ci siamo. Quindi tutte le connessioni sono giuste. A questo punto il momento della verità è giunto. Bisogna collegare i spinotti alle porte del BMS. Mi perdonerete se non riprendo in questa fase perché mi servono due mani. Ho collegato gli spinotti senza che uscisse alcun fumo. Questa è una prima conquista. C'è il comodo pulsante d'accensione, lo accendo per la prima volta in diretta assieme a voi. Ti siete premuto questo pulsante? Ecco. Si è avviato. È andato. Lo so per esperienza perché con quest'altro è successa esattamente la stessa cosa. E ora cerco di mostrarvi in diretta la schermata dell'applicazione in questione con cui posso gestire il BMS. Alla fine ho optato per una tecnica molto grezza, ovvero utilizzare un altro telefono per riprendere quello su cui ho installato l'applicazione. Questo è il BMS che trova via Bluetooth. Per l'accoppiamento la password è 1, 2, 3 e 4. Accoppia. Ecco. Ebbene, allora, questo errore è normale perché le impostazioni di default di fabbrica del BMS sono per un numero diverso di celle, cioè 17, cioè il totale delle celle che può gestire il BMS. quindi si va su impostazioni, si modifica il numero di celle, la password qui è 1, 2, 3, 4, 5, no, forse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bene. E si modifica il numero di celle presenti in modo che non dia l'errore in questione. Ok. Bene. E qui ci sta comunicando alcune cose interessanti. ovvero questo è il voltaggio delle singole celle. Ci dice in ogni momento qual è la cella con il voltaggio più alto e più basso. In realtà sono tutte perfettamente bilanciate perché sono state collegate in parallelo per giorni e giorni. Non è attiva la funzionalità di carica, di discarica. Il bilanciamento è attivo ma non è utilizzato perché in realtà sono già tutte bilanciate. La funzionalità di carica e scarica si raggiunge tramite questa ultima voce nel menu e si possono attivare da qui. La funzione di emergenza sta a indicare di permettere al BMS di fornire energia in uscita anche quando si verificano condizioni in cui non dovrebbe farlo. Ad esempio un voltaggio eccessivamente basso, un amperaggio in uscita eccessivamente alto, temperature oltre il range ammesso. Se però siete in una condizione in cui avete disperatamente bisogno di energia dalle batterie, in quel caso potete attivare la modalità di emergenza e chi se ne importa della vita residua perché avete un bisogno maggiore delle batterie di quanto le batterie abbiano bisogno di essere trattate bene. Questo è un timer che conta il tempo di attività totale del BMS. Ora non ho approfondito se è possibile settarlo o meno, però ci dice qui che è stato acceso la prima volta 5 minuti e 49 secondi fa e il tempo totale di accensione è stato proprio di 5 minuti e 56, 5 secondi. Quindi è utile anche per farsi un'idea della vita passata del BMS. Quest'altro modello conta la vita totale anche dopo che è stato spento. Immagino che la prossima volta che lo collegherò mi inizierà a contare dal tempo residuo precedente che credo sierà di due settimane circa. Non ci sono altre cose interessanti da dirvi se non che dovete mantenere attenzione a separare, isolare questi due terminali per evitare che ci siano contatti indesiderati da parte vostra oppure di altre persone perché 50 volt sono una tensione pericolosa nel caso in cui dovesse passare attraverso il corpo. Ho messo in pratica un altro accrocco perché ho collegato questo cavo e entrambi i cavi in realtà all'inverter che attualmente è scollegato dall'alimentazione principale infatti ci fa vedere che l'alimentazione viene fornita esclusivamente dalle batterie. Comunque c'è alimentazione in uscita perché altro accrocco che ho fatto è stato collegare questo scaldino direttamente all'uscita del carico. Qui ci informa che la potenza in uscita dalle batterie la 40 in uscita dalle batterie è di 1,1 A circa che equivale a 50 W che questo inverter sta assorbendo solamente per stare acceso effettivamente è un bel po'. Ora facciamo una prova semplice attiviamo lo scaldino e osserviamo il comportamento del BMS adesso sta girando senza il riscaldamento attivo quindi dovrebbe esserci un assorbimento piuttosto contenuto e infatti ecco assorbe soltanto poco più di 1 A quindi la differenza tra 50 e questo valore è la potenza assorbita dalla ventola 0,3 per 50 sono 16 W e qualcosa se noi attiviamo invece il riscaldamento sulla prima fascia ecco che la potenza assorbita aumenta un pochino a 21 A quindi sta assorbendo ci riferisce 1 KW 1056 W questo è quello che ci dice il BMS dello stato attuale del pacco batterie molto interessante se io adesso dovessi collegare l'alimentazione esterna all'inverter esploderà tutto no? seriamente vediamo un po' dovrebbe dirci che lo scaldino alimentato dalla potenza esterna è in contemporanea vediamo un po' eccolo vediamo un po' cosa ci dice si si sta accendendo ok dovrebbe fra poco caricare le batterie si allora sta sia alimentando lo scaldino va all'uscita sia caricando le batterie e l'applicazione del BMS ecco ci dice che si sta caricando a 17A qui le differenze di voltaggio si fanno più evidenti perché prima ho scaricato poi ricaricato non erano bilanciate perfettamente perché in realtà il fatto che abbiano lo stesso voltaggio intorno ai 3,2 3,3V fa solo sì che abbiano lo stesso voltaggio le IFEPO hanno una curva di scarica molto piatta quindi non sono bilanciate fra di loro qui si vede la corrente di bilanciamento di 0,6A che sta agendo fra la numero 4 che sarebbe 1,2,3 e 4 la numero 13 in realtà che è quella più elevata e la numero 3 che sarebbe la 14 che è quella con il voltaggio più basso il voltaggio più basso cambia di volta in volta e il BMS si occupa di far passare corrente dalla cella a voltaggio più alto a quella a voltaggio più basso questo è un bilanciatore attivo blando perché la corrente di bilanciamento è solo 0,6A un'inezia però su lunghi tempi può provvedere a bilanciare il pacco batterie solamente in realtà quando o è pressoché scarico o è molto carico abbiamo detto che invece nella fase intermedia di carica il voltaggio è simile anche se lo stato di carica delle celle è molto diverso non penso che ci sia altro da aggiungere questa sezione è piuttosto inutile in realtà perché non può misurare la resistenza dei cavi sono tutti comunque cavi di stessa lunghezza quindi non ci interessa cosa che è importante aggiungere in realtà nelle impostazioni del BMS attivando quelle avanzate bisogna necessariamente impostare il tipo di batterie ora repastro 1,2,3,4,5,6 verifica questo è impostato per le batterie agli ioni di litio infatti il voltaggio massimo è impostato a 4,2 se lo impostiamo è di FEPO voltaggio massimo 3,6V molto più conservativo sarebbe 3,65 secondo le celle solide ma comunque è sensato impostarlo in questo modo questo BMS ha tutta una serie di volti standard e di impostazioni possibili molto dettagliato nel modo in cui può essere impostato ad esempio questo è la cell overvoltage protection quindi quando c'è un valore che supera i 3,6V si interrompe questo è cell overvoltage protection recovery che significa che quando avendo superato i 3,6V inizia a scendere appena è al di sotto di 3,55 può riattivare la funzione del BMS al di fuori di questi valori o meglio al di sopra di 3,60V oppure al di sotto di 3,60V quando sta scendendo ma ancora di sopra di 3,55V il BMS stacca completamente la batteria stessa cosa qui per undervoltage protection e undervoltage protection recovery stesso concetto questi sono tutti i valori che potete vedere anche sul tutorial online perché è specifico di questo tipo di BMS ognuno ha la propria interfaccia di configurazione di nuovo ciao signori grazie a tutti